Della stabilizzazione della Libia e di politiche migratorie, si è parlato ieri nell'incontro a Washington tra Conte e Trump, sono temi su cui tra i due si è registrata una forte sintonia e di cui si è occupata ampiamente anche la stampa statunitense. Allora andiamo a New York dalla corrispondente Giovanna Botteri. La stampa americana parla a casa bianca con un'affinità di vedute e non in contraposizione come è venuto con la Merkel, con Macron, con la stessa May. Quali sono i grandi temi che ci uniscono? L'ha detto lo stesso Trump, innanzitutto il rifiuto dell'immigrazione illegale su cui noi negli Stati Uniti e voi in Italia siete stati eletti. Un'immigrazione illegale che porta criminalità, che porta insicurezza, bisogna rendere i nostri confini più sicuri e in questo senso è importante stabilizzare anche la Libia. Un processo di stabilizzazione a cui lo stesso Trump riconosce la priorità all'Italia, la competenza all'Italia. Ma si è parlato evidentemente anche di Dazi, adoro i prodotti italiani, ha detto Trump, ne faccio grande uso. Ma il disavanzo di quello che voi importate, di quello che noi compriamo è troppo importante ed è bisogno fare qualcosa. Per il momento ti restituisco la linea e tutto. Grazie, cambiamo pagina, parliamo della CDA della RAI che ha nominato...